E' un po' che non avevi uno di quegli incubi. Dimmi, cosa hai sognato? Solo frammenti. Nulla di chiaro. Voi combattete gli Arconnen da decenni. Carica! La mia famiglia li combatte da secoli. Nelle tue vene scorre sangue di duchi e di grandi casate. Qui siamo uguali. Ciò che facciamo è per il bene di tutti. Mi piacerebbe essere alla pari con te. Ti mostrerò io la via. Che intendi fare con questo profeta, i miei resti assassini? Fade Rosa è uno psicopatico. Vedo i futuri possibili. Tutto a un tratto. E in molti futuri, i nostri nemici hanno la meglio. Io però vedo una via. C'è una stretta via d'uscita. La mia lealtà è verso di te. Riesci a credermi? È una forma di potere che il nostro mondo non ha ancora visto. Il supremo potere. Voglio che tu sappia che ti amerò finché avrò il respiro. Non potrai mai perdermi. Non fin quando resterai quello che sei. Valuta ciò che stai per fare, Polatredes. Silenzio! È con la profezia che ci rendono schiavi! Tu non sei preparato a ciò che verrà.